La ripartenza deve essere una ripartenza molto forte con attenzione, per evitare il replay dell'estate dell'anno scorso, perché poi sembrava che era tutto a posto, poi invece c'è stato nel periodo autunnale di nuovo una ricaduta. Naturalmente le attività turistiche, culturali, paesaggistiche, ambientali, musicali, noi abbiamo riprogrammato grossomodo le attività degli altri anni pre-Covid. Ovviamente si ragionerà con le attività musicali, le attività teatrali, si tiene conto un po' dell'insieme delle frazioni, delle burgate, del territorio. E poi ci sono i tre o quattro eventi, si sta ragionando insieme per fare la Notte Bianca, per rifare la stagione nel periodo invernale, con la valorizzazione dei prodotti tipici locali, l'enogastronomia, quella del tartufo, dell'olio e del melograno, la fiera dell'agroalimentare. Insomma, diverse iniziative, soprattutto cinema, teatro, attività culturali, valorizzazione paesaggistica, ambientale, turistica, le notti romantiche, il verde, l'ambiente, il paesaggio, i castelli, insomma, ecco, un bel programma di iniziative. Sono tante iniziative, sono rivolte ai giovani, con il cinema all'aperto per ragazzi, quest'anno anche laboratori e letture con la collaborazione della Biblioteca e di Michela Gaudenzi. C'è tanta musica, con corpo bandistico e tante associazioni musicali, ci sono eventi teatrali con i fani giulesi e la Xenoxodia di Luca Guerrini. E quindi sono tante iniziative e durante la settimana, sono spalmate durante la settimana, a metà settimana e anche nel fine settimana. Nel fine settimana si svolgeranno anche quelle magari di maggior rilievo, ad iniziare dalle 10 di luglio, che c'è la notte dei castelli, a Sant'Angelo in Lizzola e Montefabri, in collaborazione col Circo e con la Proloco. Nel weekend successivo si sarà una riproposizione della Fiesta Global, in maniera ridotta, con format diversi, con pronotazioni, però si sarà una riproposizione di questa importante iniziativa. Nel weekend successivo, l'ultimo weekend di luglio, ci sarà la Notte Bianca, nella parte bassa del territorio. Speriamo di coinvolgere le diverse realtà locali e naturalmente rispettando tutte le normative vigenti. Poi importanti iniziative anche nel mese di agosto a Sant'Angelo in Lizzola, una iniziativa in particolare a cavallo del Ferragosto, dal tramonto all'alba. Un'iniziativa nuova che ha avuto molto successo grazie alla Proloco Giovani e quindi siamo certi che lo avrà anche quest'anno.